A differenza purtroppo dell'Emilia occidentale, la Romagna oggi gode di una situazione sufficientemente tranquilla, questo dovuto soprattutto al fatto che d'inverno siamo stati attenti nel gestire la risorsa Ridracoli, quindi abbiamo utilizzato il nuovo potabilizzatore che è inaugurato nel 2015 e oggi ha mostrato la sua grande validità perché ci consente una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse e ciò che oggi ci consente anche di avere riserve sufficienti per poter affrontare una crisi idrica che purtroppo non è più nemmeno un fatto eccezionale ma si sta rivelando un fenomeno piuttosto continuo. Siamo nel periodo caldo, è proprio il caso di dirlo, della stagione turistica, quindi massima affluenza, massima richiesta d'acqua. Ci arriviamo a settembre-ottobre anche se non dovessero esserci pioggi consistenti? Con le attuali riserve di cui disponiamo e anche con la situazione in questo momento sufficientemente tranquilla del Po che è l'altra sorgente importante che stiamo utilizzando, direi che noi abbiamo un piano di provvigionamento che ci consente sicuramente di traguardare la fine di settembre con una relativa tranquillità. È evidente che se dovesse prolungarsi il periodo di siccità la questione comincerebbe a cambiare e quindi dovremmo poi agire di conseguenza, ma direi che il messaggio che oggi può essere lanciato è di relativa tranquillità.